Il taglio del nastro di Mamma Silvana, gli applausi, l'ingresso in campo dei ragazzi, la targa ricordo e quella commemorativa. Sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai, tratta da un brano di Francesco De Gregori, il cantautore amatissimo da Matteo. Grande emozione e commozione nei giorni scorsi a maestre per l'inaugurazione del playground il campogiochi intitolato a Matteo Marchiori, dirigente nazionale e presidente del comitato regionale della Federbasket, scomparso nel 2020. Credo che sia stato e sia un esempio di quello che è il dirigente sportivo in Italia, quindi con una grande passione verso lo spettacolo, l'alto livello, proprio una passione viscerare per la nostra disciplina sportiva, capace di declinare questa passione sul proprio territorio. Un campo da basket e baskin completamente ristrutturato qui al patronato Papa Luciani della parrocchia Beata Vergine Adolorata in via Servi di Maria a Mestre, appunto. Le strutture nascono per far vivere la comunità, per far vivere le famiglie. Adesso un po' alla volta inizieremo a cercare di capire come farlo al meglio possibile, cercando che siano sempre pieni il più possibile. Luogo non casuale, visto che proprio da questi campetti, Matteo Marchiori iniziò a coltivare la sua grande passione per la pallacanestro. Penso che questo sia un regalo che ci fa Matteo a tutti quanti. Qui potranno giocare molti ragazzi in memoria sua e questo mi riempie di orgoglio. La ristrutturazione grazie ad una raccolta fondi di Federbasket, con il contributo della parrocchia e di tanti amici e volontari.